Bene, 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 quest'oggi inizia, diciamo, una nuova serie, ovvero ogni giorno un breve video in cui esporrò tre cose per cui sono grato nella mia vita. Ho visto un video poco tempo fa che mi è rimasto davvero impresso, dice, sì, nella vita ci sono difficoltà, ma bisogna rimanere o andare a cercare la vibrazione positiva e bisogna andare a cercare le piccole cose per cui siamo grati, così andremo avanti. Per cui grazie perché ho una famiglia buona che mi supporta in tutto quello che faccio, grazie perché sono in salute, sembra scontato, ora facciamo le corna, ma grazie per la salute e grazie perché ormai da un netto a questa parte ho cominciato a fare della mia passione il mio lavoro ed è questo, è bellissimo, quindi andiamo avanti così e a domani.